ciao a tutti e buon anno a tutti avete passato bene? avete mangiato? avete bevuto? avete fatto bene anche noi qui il tempo è un po' nuvoloso va bene adesso vi facciamo vedere come puliamo noi come pulisce mio padre le monete noi si già avevamo fatto un video sulla pulizia però era di metà detettore verso la fine facevamo vedere come pulivamo le monete però adesso facciamo principalmente questo video solo sulla pulizia delle monete il nostro metodo di pulizia delle monete poi ci sono tanti altri metodi però siccome abbiamo ricevuto un po' di commenti che volevo come facevamo noi a pulire le monete e adesso vi facciamo vedere buona visione a tutti ecco qua questo è quello che usiamo noi occorrente tutto occorrente l'aceto di vino bianco eccolo qua sale fino una bottiglietta di plastica oppure un bicchiere poi come vedete voi è una retina d'acciaio in caso che la moneta sia talmente ossidata in caso essi sia se la moneta è proprio assai ossidata una bella una bella grattatina va bene andiamo all'azione memmo iniziamo allora prima bottiglia bottiglia aceto aceto di vino bianco quando ne mettiamo più o meno ecco qua è sufficiente sarà un centimetro poche monete abbiamo qua sarà un tanto poche monete si facciamo vedere questi qua prendiamo quanti ne sono 4 euro si è importante e mettiamo anche una 2 euro mettiamo ne facciamola vedere e va bene sempre 2 euro si mettiamo un altro 2 euro questo è sì questo è un bel sporchino buttiamo dentro buttiamo dentro adesso aggiungiamo il sale aggiungiamo il sale io faccio separato dai centesimi e euro un po' di sale due o tre cucchiai non importante due o tre cucchiai non può andare ok facciamo stare un po' eh sì vediamo l'effetto qua già se fai vedere già abbiamo fatto sì qui già abbiamo fatto un po' di pulizia i centesimi qua 50 centesimi sono come nuovi 50 centesimi 10 centesimi 20 centesimi fai vedere già cominciamo a fare questo qua dentro Andrea si facciamo vedere se riesci si già si si vede si si vede si poi diamo una mescolatina così il sale quanti minuti più o meno abbiamo fatto stare un tanto non è importante 5 6 10 minuti 5 10 minuti non succede niente ok eccola qua l'ultima due euro l'abbiamo fatta con la retina che era un po più ossidata delle altre facciamo anche l'euro facciamo anche l'euro sì come nuove perfette vediamo questa qua che è un po più sporca sì e subito sì sì piano piano come nuova esce un po di questo non ha importanza eh sì con la retina si toglie sì ecco guardate è bella che nuova nuova sì ecco adesso che il telefono finalmente ha messo a fuoco mio padre sta continuando con la retina quelle che sono ancora un po un po più ossidata eh sì sì un po più ossidata si si benissimo abbastanza bene questo è il nostro metodo si fa vedere dietro la moneta si si come nuova eccole guardate che bella Iago stava lottando con gli altri suoi simili guardate che bella questa che è meglio bella bella eccole come nuova perfetto bene spero che il video vi sia piaciuto il nostro metodo per pulire monete e questo sono uscite come nuove sì sì ogni tanto la retina ci vuole ma non sempre solo ogni tanto bene buon anno ancora speriamo auguri ancora a tutti speriamo che quest'anno sia sempre migliore degli altri alla prossima continuate ad iscrivervi mettete un mi piace se vi è piaciuto la prossima e ciao a tutti dal gargano a tutti eccoci sì 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 sìì sì 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 sì